mister seconda vittoria consecutiva quella di ieri col fronti sul campo di filadelfia si infatti è arrivata una vittoria una bella vittoria contro una squadra tosta come il fronti un'altra vittoria e solo due consecutive noi dobbiamo continuare a lavorare a lavorare solito perché poi i vettori saranno una conseguenza finalmente sto vedendo fuori una squadra che gioca che lozza ogni pallone e voglia di fare bene aiutandosi l'uno con l'altro termina 1-2 l'incontro di ieri grazie alle reti di Quirino e Conedi il rigore parato da stranieri che non si smentisce mai abbiamo disputato un ottimo primo tempo contro il fronte di ripeto siamo andati in vantaggio con una magia di Quirino poi abbiamo avuto altra occasione una con una lasanna con un colpo di testa vicino la porta è andata fuori e il rigore loro hanno avuto un rigore dubbio secondo noi dubbio è parato da stranieri che non si smentisce ma questo già la quarta partita 4 partite tra il rigore contro e tutte e tre le ha parati e poi inizio nel secondo tempo abbiamo fatto un gol subito con l'econico un bel colpo di testa e loro hanno segnato dopo con Caridonna un bel gol al 25esimo e poi 20 minuti abbiamo sofferto si sa non siamo ancora bene allenati il fronte lasciava pallone in aria ma senza non abbiamo subito danni quindi va bene e abbiamo questi tre punti che ci servono bene ringraziamo mister Cristofaro e passiamo la palla al tecnico Sasagliapello che dà un assist per Giorgio De Philips ed è subito domenica gol ok buonasera a tutti grazie grazie grazie